eccoci e bentornati sul mio canale video incredibile ragazzi iniziate subito a lasciare un bel mi piace perché sarà un video ricchissimo di contenuti perché nella notte e ve ne ringrazio ancora tantissimo abbiamo seguito la conferenza Sony il vostro affetto e il vostro supporto è stato incredibile durante la conferenza Sony è stato rilasciato il reveal trailer del multiplayer di Call of Duty World War 2 titolo della Sledgehammer Games in arrivo il 3 di novembre lo analizzeremo bene nel dettaglio vedremo tutte le cose più importanti qui sotto nei commenti invece mi fate sapere voi che cosa ne pensate e quali impressioni avete avuto prima cosa confermata ovviamente i piedi a terra siamo nella seconda guerra mondiale siamo nel periodo dello sbarco in Normandia e potremo vedere cose veramente molto interessanti all'interno di questo trailer multiplayer prima notizia importantissima beta privata in arrivo il 25 di agosto su PS4 lo potremo leggere proprio al termine del video cose veramente molto importanti da sottolineare sono innanzitutto abbiamo visto una sorta di paracadutisti non sappiamo se sarà una sorta di respawn oppure una sorta di skill oppure un qualche cosa di strano però ovviamente è molto particolare trovare all'interno del multiplayer di Call of Duty dei paracadutisti questo cercheremo di scoprirlo più avanti si vede ovviamente il classico cecchino che uccide in un singolo colpo quindi one shot one kill e confermati in tutto e per tutto la presenza dei carri armati infatti si vede in un determinato frangente di questo trailer un soldato che spara dall'interno del carro armato questo non sappiamo se sarà sempre una sorta di score streak però potrebbe anche essere appunto un veicolo controllabile e via dicendo confermata la presenza del lancia fiamme ma una cosa molto importante da sottolineare di questo trailer è sicuramente una sorta di score streak si vede infatti una sorta di aereo che spara un missile una sorta di bomba questa secondo voi è una kill streak oppure questo veicolo lo potremo utilizzare quindi si ricollega ai paracadutisti di prima quindi veramente tante cose molto particolari in questo trailer multiplayer di Call of Duty World War 2 ma soprattutto abbiamo potuto vedere che anche se il gioco sarà a piedi a terra sembra essere molto veloce e molto frenetico vi torno a confermare che la grande novità del multiplayer saranno i quartieri generali e all'interno dei quartieri generali potremo partecipare in 48 giocatori è stato confermato che all'interno della nuova modalità guerra che come sapete è una collaborazione fra la Sledgehammer Games e la Raven Software ci sarà la presenza dei carri armati mentre all'E3 che si sta svolgendo a Los Angeles soltanto due mappe del multiplayer sono giocabili fatemi sapere le vostre impressioni sul reveal trailer del multiplayer di Call of Duty World War 2 e noi ci vediamo con tanti nuovi video grazie a tutti